Buongiorno, ringrazio l'Accademia di questo invito. Abbiamo scelto assieme un argomento che in qualche modo mi permettesse di entrare nel merito anche del mio lavoro, che è quello dell'editoria e quindi un rapporto dell'editoria dove sta andando nell'era digitale. E sarebbe probabilmente presuntuoso da parte mia dire di avere delle risposte, delle opinioni certe su questo argomento così magmatico in questo momento. Tutti noi abbiamo la difficoltà ovviamente a interpretare la realtà in diretta, ma vivendo quotidianamente questi fenomeni, professionalmente, sia nel lavoro, nelle scelte aziendali, anche nelle decisioni che il nostro malgrado subiamo, alcune proposte di riflessione forse si possono tentare. Forse anche c'è una certa attitudine da parte mia ad avere un certo sguardo sulle cose, qualità che non sapevo di avere e che mi hanno portato poi a fare questo lavoro di editore, che scoprì in modo maieutico potrei dire, il mio professore Marziano Guglielminetti, quando mi disse che guardavo le cose in modo tridimensionale, che non mi sfuggivano le connessioni fra le fonti e quindi mi disse che riuscivo a congelare sulle pagine sapere con un'attenzione alla restituzione agli altri, ai lettori e quindi con un'ansia della cura dei dettagli, quindi assommate tutte queste cose avrebbero fatto di me un buon editore e io non lo so se questo è accaduto, ma questo è stato un po' il fiat di questa avventura. Perché ho questo accenno biografico? Perché l'attenzione ai documenti, alle fonti, in realtà è uno dei nuclei centrali del rapporto così quasi conflittuale che la stampa ci restituisce tra il mondo digitale e il mondo cartaceo. Siamo in una sede, sono attorniato da libri che rappresentano appunto questa esperienza millenaria di sapere che si è coagulato, che si è in qualche modo a livello epistemologico costruito un certo tipo di pensiero, il nostro pensiero che è fondamentale per la nostra cultura. E quindi guardare i documenti e gli archivi che attraversano il loro malgrado, il tempo e lo spazio ci arrivano e aspettano di accendere nuova scrittura, nuovi pensieri. Dicevo appunto di questa polarità fra le esperienze potrei dire del mondo dell'editoria che da parentesi già da tempo ha cambiato pelle, non è che utilizzi soltanto una piattaforma libro se vogliamo usare questa espressione, ma ne ha usate tante altre, degli audiolibri, i dischi, l'audio, il sonoro, in ultimo il podcast. Quindi delle esperienze che in qualche modo sono poi confluite naturalmente sul web, sulla rete. Eppure potrei dire che il libro è stato un po' un riferimento irrinunciabile dal punto di vista della nostra cultura, questa sintesi efficace, profonda di sapere. E' chiaro che cambiando il supporto cambia anche il tipo di scrittura e cambia anche il soggetto per la scrittura diversa. Quindi se vogliamo allargare il discorso proprio rispetto a scrittura, possiamo pensare al fatto che una famosa piattaforma attuale di TikTok usa il corpo, la danza, come strumento di scrittura. Quindi se vediamo il documento e la scrittura in senso molto ampio, vediamo come la rete, il web, è attraversato da molte scritture. E questo processo ha creato un diverso ecosistema. Il filosofo Ferraris, in un recentissimo volume, che è un po' la continuazione di un altro, che era Documentalità, questo volume si chiama Documentità, vede proprio una frattura epistemologica molto forte, dove fa in qualche modo iniziare il ventunesimo secolo, proprio in questi ultimi anni, dove la scrittura, che ci ha accompagnato in questi millenni, proprio intesa come sistema di conoscenza, è esplosa all'interno della rete, creando una quantità di dati mostruosa, enorme, gigantesca, dati che sono un po' messi alla rinfusa, se vogliamo. Non è mai stato così facile immettere in un sistema, su una piattaforma, diciamo così, una quantità di dati come quella che viene immessa quotidianamente. Si calcola che il 90% di dati messi, appunto come documenti, in senso ampio, come dicevamo, nella rete sia stata prodotta il 90% negli ultimi due anni. E quindi Ferrari si fa notare come mai è accaduto all'umanità di avere un Atlante così dettagliato, potremmo definire quasi micrologico, che è come avere una mappa uno a uno. Ma è evidente che nel momento in cui noi avessimo una mappa, una cartografia uno a uno sarebbe una cartografia estremamente precisa, ma evidentemente inutilizzabile. C'è un fenomeno individuato appunto che, mutuato dalla fisica all'isteresi, cioè la sopravvivenza degli effetti alle proprie cause. Cioè esistono dei percorsi che noi facciamo, lasciamo tracce che sono dei documenti, della nostra attività che facciamo in rete, che vengono definiti dei documenti deboli. Nel senso che io posso fare un'azione, un documento forte, che so io, una lettera spedita con posta certificata, quindi un documento forte, che ha tutte quelle caratteristiche che conosciamo di documenti definiti anche tecnicamente e giuridicamente. Ma per arrivare là lascio una scia di metadati, che vengono definiti documenti deboli, che questa scia è enorme. È una quantità di dati molto interessanti, che sono anzi forse i dati che in questo momento in rete stanno creando quel vantaggio competitivo che hanno le piattaforme. Non esistono ancora degli strumenti, se non da parte di pochissime persone, per leggere questa massa enorme di dati, di questi documenti deboli, che danno infatti il vantaggio competitivo alle piattaforme digitali, questo accumulo di ricchezze spropositate. proprio perché c'è una mole di dati che viene immessa continuamente e quindi crea un nuovo ecosistema, che ha ancora tutto da leggere, quindi potremmo dire le nostre prossime fonti, le fonti documentali che noi andremo in qualche modo a analizzare. Come? Non lo sappiamo. Come non lo sappiamo. Anche se potrei dire che mi è scattato questo meccanismo, mi ricordo in modo impressionante la discussione appunto di 2500 anni fa, riportata dal Federo di Platone, dove c'è la discussione degli uomini colti dell'epoca che criticavano il passaggio dalla cultura orale alla cultura scritta. In qualche modo è quello che noi stiamo vedendo in questo momento, le accuse vengono fatte, è il contrario, dalla cultura scritta alla cultura orale, potrei dire in qualche modo. Quindi è chiaramente un passaggio, una soglia, un passaggio epocale. Probabilmente Ferraris ha ragione quando dice che è iniziato solo adesso il ventunesimo secolo, perché abbiamo questo discrimine, questo passaggio forte di cambiamento proprio epistemologico. Esiste quindi questo capitale silenzioso che viene affrontato anche in termini socioeconomici, che non è questo il mio ambito in questa giornata, in questa chiacchierata, ma mi domando come editore, esiste forse una forma efficace come il libro in questo momento di sintesi culturale così efficace? Non mi pare, ecco, non mi pare che in questo momento emerga questo tipo di strumento. C'è una forte osmosi sicuramente fra digitale e cartaceo, se vogliamo restringere queste due categorie così per semplificare, una forte osmosi, ma che in qualche modo riprende gli stilemi del libro, della rivista, dell'articolo. Io penso ad esempio alla vivacità del mondo delle riviste culturali. Proprio in questi giorni c'è il settantesimo, diciamo, anniversario della rivista del Mulino, che con titoli roboanti, è stato scritto e sbarca sul digitale per essere più vicino al pubblico giovane. In realtà diversifica il suo bacino di utenza e nel contempo guarda a tutti e due i mondi, cioè da una parte il sito che guarda più a un'attualità e quindi in qualche modo più a un'immediatezza diciamo tra la rivista e il giornale, se vogliamo, e dall'altra parte invece la rivista vera e propria che esce su cartaceo con una scadenza trimestrale. Quindi c'è questa necessità di riflessione e poi sono altre riviste che nascono digitali e poi oppure da cartaceo diventano digitali e poi ritornano cartaceo e quindi c'è questo osmosi. In questi giorni, proprio dopo il lockdown, un famoso critico torinese raccontava la sua esperienza di aver tenuto una decina di lezioni attraverso la rete e poi ha sentito l'esigenza di trasformarle in libro. Ecco, io credo che questo fenomeno, questo osmosi fra i due mondi guarda comunque la necessità di avere una sintesi efficace, culturalmente efficace. A livello così industriale e editoriale è un po' paradossale quello che viviamo perché in qualche modo è quasi un po' come se dovessimo vergognarci a pubblicare dei libri. E questo ho voluto scorrere le mie librerie a casa, quasi per gioco, e molti dei libri che hanno significato molto culturalmente per me ma anche per la comunità il dibattito che hanno suscitato sono stati finanziati, finanziati da enti regionali, nazionali, ministeri, CNR, banche, eccetera. Non so, penso ad esempio qua in Piemonte la straordinaria collana sui cicli pittorici piemontesi su cui abbiamo studiato all'università, eccetera, che anche commissionati, quindi non solo nati nell'accademia ma commissionati da enti che non avrebbero mai visto la luce perché il mercato, evidente, non avrebbe potuto sorreggere il peso economico di queste opere. Eppure sono state significative nel dibattito, non so, penso alla storia di Torino proprio edita sotto l'egida dell'Accademia di Simcox, quindi gli esempi potrebbero essere migliaia. Perché dico questo? Perché ora molti enti e molte fondazioni scrivono specificamente nei loro bandi non si finanziano pubblicazioni. Ecco, mi pare in questo senso un impoverimento un impoverimento rispetto alla qualità privilegiando la quantità ma in qualche modo io credo che il libro la cultura di cui noi siamo un po' portatori possa fare emergere nuovi strumenti utilizzando giusto appunto la cultura che ci ha accompagnato in questi ultimi millenni. Sicuramente c'è bisogno di uno spazio di approfondimento diciamo di sintesi di sintesi culturale e di sedimentazione e vorrei citare e quindi lo leggo per non dire attribuire delle frasi errate sul fatto che dice Giacomo Bottos della rivista Pandora nata sei anni fa online e poi approdata sulla carta così dice c'è bisogno di spazi di approfondimento di guardare alla tendenza a lungo termine per reinventare la sfera pubblica oltre all'istantaneità del digitale. Ecco, credo che questa frase con cui vorrei colludere la nostra così la chiacchierata nasce proprio da questa riflessione che non possiamo negare il ruolo che ha avuto il libro e che può avere sarebbe a prioristico escluderlo dagli strumenti necessari ancora alla sintesi culturale di cui abbiamo una grande fama una grande sete. Grazie.